Il Comune di Carmiano è stato sciolto per il rischio di infiltrazioni mafiose su decisione del Consiglio dei Ministri, che ha recepito la relazione della Prefettura di Lecce. Si tratta del quarto comune Salentino, dopo Sogliano, Parabita e Surbo, ad essere sciolto per mafia. Travolta in bicicletta da un'auto che non si ferma a soccorrerla. È morta sul colpo Tatiana Renna, infermiera a 32enne di Cellino San Marco. La donna stava attraversando un incrocio appoggiardo, quando è stata colpita in pieno da un'auto che viaggiava a forte velocità. Arrestato il conducente. Pubblicato il bando di Sanità Service per l'assunzione di 150 persone da impiegare nella ASL di Lecce. I posti sono a tempo indeterminato e per accedere alla selezione è sufficiente possedere un diploma di scuola media inferiore. Riparte l'aliscafo da Otranto a Corfu. Il servizio della Liberty Lines sarà avviato dal prossimo 27 giugno, con un incremento di corse fino a 6 volte a settimana. Il veloce all'iscafo consente di raggiungere la Grecia in meno di tre ore. L'attrice premio Oscar WP Goldberg, stregata dal Salento, la nota protagonista di Sister Act, ha postato video e foto del suo soggiorno, mostrando la bellezza della piscina naturale di Marina Serra. Un gol di testa di Lamantia regala un altro successo fuori casa a Lecce, che vince anche contro la Fiorentina. Providenziali le parate del portiere Gabriel. Nella prossima sfida al Via del Mare contro il Genoa, i giallorossi proveranno a conquistare la tanto attesa vittoria casalinga. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.